questa italiana online golem, oggi sono molto preoccupato, perché vedo che dentro internet sta dominando un modello culturale per cui presto ci saranno 6 miliardi di blog o 60 milioni di blog in Italia, ognuno scritto da un autore e letto da un autore e che odia visceralmente il blog di chi sta a destra e altrettanto visceralmente il blog di chi sta a sinistra, 60 milioni di blog, 6 miliardi di blog, ognuno scritto da una persona e che odia il resto del mondo, cioè abbiamo sperato che internet diventasse il luogo della comunicazione globale, sta diventando invece il luogo della frammentazione, il luogo del risentimento e certamente la crisi in questo non aiuta. Questo fa sì che i leader occidentali abbiano colto immediatamente la caduta del dibattito critico dell'opinione pubblica e la frammentazione di internet e stiano adottando tutti quanti, progressisti e conservatori, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, un rapporto populista con l'opinione pubblica, per cui bypassano qualunque filtro, si rivolgono direttamente ai cittadini comuni e questa è la fine della democrazia, questa è potenzialmente la fine della democrazia come l'abbiamo conosciuta, non so che cosa ci sarà dopo, se è Blade Runner o che cosa, e questo è un punto su cui noi, come giornale, una deriva contro cui noi ci opporremo con estrema fermezza. Dobbiamo tutelare il discorso critico, saremo un giornale ovviamente nella tradizione dei valori della deolontologia e della tradizione del sole, terremo fermi quelli che sono i nostri valori di libertà, di competizione, di sviluppo, di innovazione, di ricerca, però faremo parlare tutte le posizioni, faremo parlare tutte le identità culturali e le faremo parlare con un tono diverso da quello che si usa oggi in Italia, non ci saranno bave alla bocca, non ci saranno caroti di gonfi e non ci saranno toni strillati, sarà un giornale che crede non nella forza di strillare, ma nella forza dei suoi argomenti e questo, credetemi, farà di noi un giornale controcorrente, perché invece la corrente va nel senso dell'animosità. Mi hanno preso in giro, ho finito, mi hanno preso in giro preventivamente dicendo che avrei infarcito il discorso di citazioni e in effetti se leggete il discorso qui ce n'è parecchie, molto veramente colte e alcune addirittura tanto colte che stamattina quando lo rileggevo mi sono io stesso un po' commosso, però poi nel chiacchierare mi sono sfuggite, ma tutti quelli che vorranno gliele dirò. C'è soltanto una che mi viene in mente, non so se qualcuno di voi ha visto il film Good Night and Good Luck, quello con George Clooney, nessuno? Sì, tanti, tutte le signore l'hanno visto. Bene, Clooney interpreta Fred Flandy, Fred Flandy era il producer dello show di Murrow, quello che è poi la vera anima del programma e che convince Murrow a mettersi in libertà contro il maccartismo ed è stato uno dei pionieri del giornalismo e della televisione negli Stati Uniti. È stato mio professore quando io studiavo alla Columbia University, molto più vecchio, non era più Clooney, era uno molto più vecchio di com'era allora, però era ugualmente mitologico e per questo io dico mia figlia che Clooney è stato mio professore. Friendly barra Clooney insegnava una cosa, non tocca a noi dire alla gente che cosa deve pensare, tocca a noi dare alla gente, e in questo il sole è davvero unico nel poterlo fare, tocca a noi dare alla gente tutti i materiali per formare un giudizio informato, critico e indipendente. Tutto il DNA, tutti i mattoni che gli servono per capire che cosa sta succedendo e capire che cosa è il suo interesse e che cos'è l'interesse della comunità in cui vive. Noi questo dobbiamo fare, noi dobbiamo, e saremo unici perché non c'è nessuno attrezzato come noi per farlo e non c'è nessuno oggi in Italia che vedo fare questa scelta di equanimità, dobbiamo dare e dobbiamo sforzarci di reimporre a un'Italia che è distratta, cinica e nichilista, dobbiamo sforzarci di dare di nuovo gli elementi per fare una scelta matura e consapevole. Quando questa scelta sarà fatta, noi la potremo condividere o la potremo non condividere, ma avremo fatto il nostro dovere. Ho finito, mi sono sempre chiesto e sicuramente qualcuno di voi se l'è chiesto a sua volta, perché ho fatto il giornalista e perché abbiamo fatto i giornalisti, soprattutto quando poi si arriva come me verso la fine della carriera di lavoro, perché ci sono mestieri molto più pagati, anche io leggo le classifiche che mettiamo sul sito dei manager, molti di questi manager li conosco e penso, ma perché quello guadagna in un anno quanto io ho guadagnato in tutta la vita? Ci sono mestieri più rispettati, in cui lo status sociale è superiore al nostro, noi fondamentalmente guadagniamo poco rispetto ad altre professioni e abbiamo uno status sociale meno, ammirato di altre professioni. Allora perché abbiamo fatto questo mestiere e perché abbiamo intignato? Mi vengono in mente due cose quando la sera non riesco a dormire. Uno, per sapere cosa sta succedendo prima degli altri. L'emozione e la passione di essere nella nave della storia a prua, arrampicati, a guardare le cose cinque minuti prima degli altri. So che magari questo vi potrà sembrare un po' ridicolo, ma per me è sempre fonte di emozione enorme. Il secondo punto è provare a cambiare di un millimetro la rotta di questa nave, vedere che arriva un iceberg di ingiustizia e farlo sciogliere, vedere che c'è qualcosa che sta accadendo che non è buono e provare a trasformarlo in bene, vedere che ci sono degli errori di ignoranza, degli errori di razzismo, degli errori di presunzione o di arroganza e informando la gente scioglierli. Ecco, queste due passioni, vedere che cosa succede prima degli altri e provare a lasciare la comunità nella quale viviamo migliore di come l'abbiamo trovata, io credo che valgano per me e per voi tutti i soldi non presi e tutte le rissatine che ci sono quando uno dice di fare il giornalista. Se ognuno di voi qualche volta in questi mesi, anni in cui lavoreremo insieme, settimane, riproverà queste due emozioni, l'emozione di vedere la realtà un po' prima e l'emozione di provare a cambiarla per il bene, io sarò molto, molto, molto contento. Grazie.